Un incontro con il ministro della transizione ecologica Gilberto Picchetti Fratin per fare il punto della situazione del protocollo d'intesa tra Mite e Deni, siglato dall'ex ministro Costa e l'AD del cane a sei zampe De Scalzi, che da qualche mese a questa parte sembra essersi arenato dopo un inizio promettente. Il protocollo, siglato ormai tre anni fa, prevedeva lo smantellamento in dieci anni di tutte le aree in disuso del sito industriale, la loro restituzione a nuove funzioni con una prima fase, nei tre anni successivi, di demolizione degli impianti non più funzionali e le attività per la produzione di biocarburanti in un'area totale di oltre 20 ettari e soprattutto la realizzazione di un progetto di decarbonizzazione del sito basato sull'applicazione di tecnologie innovative di proprietà di Eni. A questi progetti si doveva affiancare anche lo sviluppo dei giacimenti a gas di Argo e Cassiopea, in attesa ancora di partire. A questo proposito il senatore grillino Pietro Lorefice negli scorsi giorni ha avuto un primo contatto proprio con il ministro. Ho posto sul tavolo direttamente le questioni di interesse, non solo locale perché ho chiesto un aggiornamento puntuale, sulla situazione di tutti i SIN, i siti di interesse nazionali per le bonifiche di tutta la Sicilia e poi su GEL ho chiesto nel dettaglio un aggiornamento di quello che è stato il protocollo d'intesa firmato dall'allora ministro Sergio Costa con l'AD di Eni Descalzi. E proprio su quello ho puntato l'attenzione, informando il ministro di quelli che sono stati i risultati e le accelerazioni avute grazie a quel protocollo d'intesa, sia in termini di smantellamento, di smissioni di vecchi impianti e accelerazione nel comparto delle bonifiche, che è quello che ai nostri territori interessa di più. Salute e ambiente devono sempre rimanere al centro dell'attenzione di qualsiasi attività politica, di governo locale, regionale e nazionale e noi non ci fermeremo mai nel mettere la massima energia affinché questo vada avanti e vada avanti con forza perché porta sviluppo, lavoro e nel contempo tuteliamo quella che è la salute dei cittadini, dei nostri elettori perché è anche quello e l'ambiente non lo diciamo noi, perciò cambiamenti climatici. Il grande obiettivo dell'Unione Europea al 2050 per qualcuno sembra lontano, ma abbiamo gli obiettivi al 2030 e al 2035, lavoriamo assieme per raggiungerli. Il senatore Grillino torna anche sulla situazione delle bonifiche delle aree esterne al perimetro industriale che ad oggi gravitano intorno a poco più dell'1% degli interventi realizzati. Anche su quello stiamo spingendo, io sto continuando un'interlocuzione serrata con la regione siciliana, lì abbiamo avuto la sfortuna che nella fase iniziale come soggetto attuatore è stato individuato il Comune di Gela che ci ha fatto perdere oltre un anno di tempo. La palla è tornata alla regione siciliana che ha provato a fare prima una ricognizione sugli enti territoriali per individuare il RUP, anche quella non è andata a buon fine. Interlocuzioni con il dirigente della regione siciliana che segue il comparto mi dicono che stanno spingendo anche loro e dovremmo avere nel giro di poco sia gli aggiornamenti sulle discariche di marabusca e cipolla.